In questo tutorial vediamo delle espressioni di numeri naturali semplificabili con le proprietà delle potenze. Partiamo da questo primo esempio. Fissiamo l'attenzione all'interno di queste parentesi tonde e allora apro la quadra e qui all'interno osservo che posso applicare le proprietà delle potenze in quanto 3 e 2 hanno lo stesso esponente e quindi moltiplico 3 per 2 ottenendo 6 alla seconda tutto quanto alla quinta. Poi abbiamo diviso 6 all'ottava e chiudiamo la quadra. Meno, apriamo la graffa, apriamo la quadra, qui ho una potenza di potenza, 3 per 2 e scrivo 6 ed ottengo 16 alla sesta diviso. Anche qui ho una potenza di potenza e allora moltiplico 5 per 4 ed ottengo 2 elevato alla 20. Chiudiamo la quadra per 2 alla nona e chiudiamo la graffa. Poi abbiamo diviso 4 alla quinta meno. Qui ho una moltiplicazione che poi verrà elevata alla 0 e allora posso scrivere direttamente 1. Qui eseguiamo questa potenza di potenza, 2 per 5 ed otteniamo 10 e quindi scrivo 6 alla decima diviso 6 all'ottava. Le quadre non mi servono più. Meno, apriamo la graffa. Osservo che qui per eseguire questa divisione non posso applicare le proprietà delle potenze in quanto la base è diversa e sono diversi anche gli esponenti. Fisso l'attenzione sul 16. 16 può essere scomposto in fattori primi ed è pari a 2 elevato alla quarta e allora se al posto di 16 scriverò 2 alla quarta poi posso applicare le proprietà delle potenze e allora apro la quadra. Al posto di questo 16 andrò a scrivere 2 alla quarta tutto quanto alla sesta diviso 2 alla 20 e chiudiamo la quadra per 2 alla nona e chiudiamo la graffa. Qui abbiamo 4 alla quinta. Per applicare successivamente le proprietà delle potenze questo 4 conviene scriverlo come 2 alla seconda tutto quanto alla quinta meno 1. Ora questa scomposizione non ci serve più e la cancelliamo. Eseguiamo questa divisione applicando le proprietà delle potenze. La base è la stessa che 6 e allora 10 meno 8 è pari a 2 e scrivo 6 alla seconda meno ed apriamo la graffa. Qui ho una potenza di potenza. 6 per 4 ottengo 24 e quindi scrivo 2 alla 24 diviso 2 alla 20 per 2 alla 9 e chiudiamo la graffa. Poi diviso qui ho una potenza di potenza. 2 per 5 e scrivo 2 alla decima meno 1. 6 alla seconda lo sviluppo visto che non vi sono più segni di moltiplicazione e divisioni e scrivo 36 meno. Apriamo la graffa. Qui per eseguire questa divisione possiamo applicare le proprietà delle potenze. La base è la stessa che 2 e allora 24 meno 20 è pari a 4 e scrivo 2 alla quarta per 2 alla 9. Chiudiamo la graffa. Diviso 2 alla decima meno 1. Ricopio il 36 meno. Eseguiamo questa moltiplicazione. Applichiamo le proprietà delle potenze perché la base è la stessa. 4 più 9 ed ottengo 13 e quindi ho 2 alla tredicesima diviso 2 alla decima meno 1. Ricopio 36 meno. Ora eseguiamo questa divisione applicando le proprietà delle potenze. 13 meno 10 è pari a 3 e quindi scrivo 2 alla terza meno 1. E quindi 36 meno 2 alla terza è pari a 8 meno 1. E 36 meno 8 meno 1 è pari a 27. Semplifichiamo questa espressione. Allora apriamo la graffa, apriamo la quadra, qui abbiamo 16 alla quarta diviso 8 alla quinta. Questa espressione scritta così com'è non mi consente di applicare le proprietà delle potenze. La base è diversa e sono diversi gli esponenti. Allora conviene scomporre in fattori primi 16 e 8. 16 è pari a 2 alla quarta, 8 è pari a 2 alla terza. E allora qui al posto di 16 scriverò 2 alla quarta. Apro la tonda, scrivo 2 alla quarta, tutto quanto alla quarta. Ho ricopiato questo esponente, poi diviso. Al posto di 8 scriverò 2 alla terza e quindi 2 alla terza, tutto quanto alla quinta. Ho ricopiato questo esponente, chiudo la tonda alla diciassettesima, poi diviso 2 alla quattordicesima e chiudiamo la quadra, tutto quanto alla quinta. Diviso questo 4, conviene scomporlo e scriverlo come 2 alla seconda, tutto quanto alla sesta. Meno, qui non vi sono moltiplicazioni e divisioni, e allora questo 2 alla seconda lo sviluppo e scrivo 4. Chiudiamo la graffa all'ottava. Diviso, apriamo la quadra. Qui per eseguire questa moltiplicazione possiamo applicare le proprietà delle potenze. Ho la stessa base che è 2 e allora 5 più 7 è pari a 12 e scrivo 2 alla dodicesima. Diviso, qui ho una moltiplicazione, la base è la stessa, sommo gli esponenti, 2 più 4, e scrivo 2 alla sesta. Chiudiamo la quadra alla seconda. Queste scomposizioni ora non ci servono più e allora le cancelliamo. Andiamo avanti nell'espressione, apriamo la graffa, apriamo la quadra. Qui ho una potenza di potenza, 4 per 4 è pari a 16, e scrivo 2 alla sedicesima. Diviso, qui ho un'altra potenza di potenza, 3 per 5, ed ottengo 15 e scrivo 2 alla quindicesima. Tutto quanto elevato alla 17. Poi diviso 2 alla quattordicesima, chiudo la quadra alla quinta. Diviso, qui ho una potenza di potenza, 2 per 6 è pari a 12 e do 2 alla dodicesima, meno 4. Chiudiamo la graffa all'ottava. Poi diviso, qui ho una potenza di potenza, la base è la stessa, allora calcolo la differenza tra gli esponenti, 12 meno 6 è pari a 6, ed ottengo 2 alla sesta, tutto quanto alla seconda. Riapriamo la graffa, riapriamo la quadra. Qui, per eseguire la divisione, calcoliamo la differenza tra gli esponenti, in quanto le basi sono le stesse. 16 meno 15 è 1, e quello che mi rimane 2 alla 1, ossia 2. E poi ricopio l'esponente 17. Diviso 2 alla 14. Chiudiamo la quadra alla quinta. Poi il resto lo vado a ricopiare. Diviso, qui ho una potenza di potenza, 6 per 2 e ottengo 12, e quindi scrivo 2 alla dodicesima. Ora, eseguiamo questa divisione applicando le proprietà delle potenze. La base è la stessa, 17 meno 14 risulta essere pari a 3, e allora ho 2 alla terza, tutto quanto alla quinta. Diviso 2 alla dodicesima, meno 4, e poi il resto lo ricopio. Ora, 3 per 5 è pari a 15, e allora scrivo 2 alla quindicesima, diviso 2 alla dodicesima, meno 4, e poi il resto lo vado a ricopiare. Eseguiamo questa divisione applicando le proprietà delle potenze. La base è la stessa, 15 meno 12 è pari a 3, quindi quello che ottengo è 2 alla terza. Posso svilupparlo, questo 2 alla terza, e scrivere direttamente 8, poi meno 4, tutto quanto all'ottava, diviso 2 alla dodicesima. 8 meno 4 risulta essere pari a 4 all'ottava, diviso 2 alla dodicesima. Ora, se voglio eseguire questa divisione applicando le proprietà delle potenze, devo riscrivere 4 come potenza di 2, ossia 4 lo riscrivo come 2 alla seconda, poi tutto quanto all'ottava, diviso 2 alla dodicesima. 2 per 8 è pari a 16, e quindi ho 2 alla 16 diviso 2 alla 12. Ora le basi sono le stesse e posso applicare le proprietà delle potenze. 16 meno 12 è pari a 4, e allora ho 2 alla quarta, e 2 alla quarta è pari a 16. Semplifichiamo questa espressione, apriamo la graffa, apriamo la quadra. Qui abbiamo 56 diviso 8, che risulta essere pari a 7 alla quarta per 7 alla nona, e chiudiamo la quadra. Poi diviso, 35 diviso 5 risulta essere pari a 7 alla undicesima, meno 35 diviso 7 risulta essere pari a 5 alla seconda. Chiudiamo la graffa, la settima, diviso, qui ho una potenza di potenza, 3 per 2 ottengo 6, e quindi scrivo 24 alla sesta, meno 7 per, apro la tonda, 22 alla 0 è pari a 1, più 33 alla 0 è pari a 1, e chiudiamo la tonda. Apriamo la graffa, qui abbiamo una moltiplicazione, la base è la stessa, e allora sommo 4 più 9, ed ottengo 7 alla tredicesima. Poi diviso 7 alla undicesima, meno, questo 5 alla seconda, visto che non ha moltiplicazione e divisioni, lo sviluppo, e scrivo 25. Poi tutto quanto alla settima, diviso 24 alla sesta, meno, 1 più 1 è pari a 2, per 7, ed ottengo 14. Eseguiamo questa divisione applicando le proprietà delle potenze, 13 meno 11 è pari a 2, e allora ho 7 alla seconda, meno 25. Chiudiamo la graffa, alla settima. Osservo che questo 7 alla seconda, posso scriverlo direttamente come 49, poi diviso 24 alla sesta, meno 14. 49 meno 25 è pari a 24 alla settima, diviso 24 alla sesta, meno 14. Ora, per eseguire questa divisione applico le proprietà delle potenze. La base è la stessa, 7 meno 6 è pari a 1, e quindi ottengo 24 alla 1, ossia 24 meno 14, e 24 meno 14 è pari a 10. Semplifichiamo questa espressione e, per poter applicare le proprietà delle potenze, conviene scrivere 27, 18, 81 e 6 come prodotto di numeri primi. In particolare, 27 risulta essere pari a 3 alla terza. E allora, al posto di 27, scriverò 3 alla terza, tutto quanto all'ottava. Per, scomponendo 18 in fattori primi, possiamo scriverlo come 2 per 3 alla seconda. Infatti, 3 per 3 è 9, per 2 ottengo 18. E allora, apro la tonda e scrivo 2 per 3 alla seconda, tutto quanto all'ottava. poi abbiamo per 81 scomposto in fattori primi, risulta essere pari a 3 alla quarta. E allora, scriverò 3 alla quarta, tutto quanto alla terza, diviso 6 scomposto in fattori primi e pari a 2 per 3. E quindi scrivo 2 per 3 all'ottava, poi diviso 3 alla quarantatreesima. Queste scomposizioni ora non ci servono più, e allora le andiamo a cancellare. Eseguo questa potenza di potenza, 3 per 8 è pari a 24, e quindi ho 3 alla ventiquattresima. Per, qui distribuisco la potenza 8, e scrivo 2 all'ottava, per 3 alla seconda all'ottava, e quindi 2 per 8 è pari a 16, e scrivo 3 alla sedicesima. Per, qui ho potenza di potenza, 4 per 3 è pari a 12, ed ottengo 3 alla dodicesima. Diviso, 3 alla quarantatreesima. Qui devo distribuire la potenza 8. Apro la tonda e scrivo 2 all'ottava, per 3 all'ottava, poi diviso 3 alla quarantatreesima. Ora qui posso applicare le proprietà delle potenze, in particolare fissiamo l'attenzione sui fattori che hanno base 3, e allora posso sommare 24 più 16 più 12, e scrivo 3 elevato alla 52, per 2 all'ottava, diviso 2 all'ottava, per 3 all'ottava, e poi diviso 3 alla quarantatreesima. Ora, eseguiamo questa divisione, e quindi avremo 3 alla 52 diviso 3 alla 8, ho la stessa base che 3, e allora calcolo la differenza di 52 con 8, e scrivo 3 elevato alla 44, per, abbiamo poi 2 all'ottava, diviso 2 all'ottava, 8 meno 8 è pari a 0, e quindi ho 2 alla 0, diviso 3 alla quarantatreesima. Ricopio 3 alla 44, 2 alla 0 è pari a 1, e quindi non lo riscrivo, diviso 3 alla quarantatresima. Ora, per eseguire questa divisione applico le proprietà delle potenze, 44 meno 43 è 1, e quindi ho 3 alla 1, ossia 3. Risolviamo quest'ultimo esempio, apriamo la quadra, e qui osservo che ho una catena di divisioni, allora devo calcolare 24 meno 12, meno 3, meno 2, e meno 1, che è l'esponente dell'ultimo 3, ed ottengo 6, allora scrivo 3 alla sesta, poi diviso, qui ho un'altra catena di divisioni, avendo la stessa base applico le proprietà delle potenze, e allora devo calcolare 23 meno 12 meno 3 meno 2 meno 1, esponente dell'ultimo 3, ed ottengo 5, e scrivo 3 alla quinta, e chiudiamo la quadra, poi diviso, apriamo la quadra, qui posso riscrivere 3 alla ventiquattresima, per, qui ho una catena di moltiplicazioni con base 2, allora sommo 14 più 4 ottenendo 18, più 2 ed ottengo 20, e scrivo 2 alla ventesima, diviso, apriamo la tonda, qui ricopio 3 alla ventitresima, per, e poi ho una catena di moltiplicazioni con base pari a 2, 14 più 4 ottengo 18, più 2 ottengo 20, e quindi scrivo per 2 alla 20, chiudo la tonda, chiudo la quadra, eseguiamo questa divisione, la base è la stessa, e allora 6 meno 5 è pari a 1, e scrivo 3, diviso, apriamo la quadra, e adesso eseguiamo questa divisione, fisso l'attenzione sulla divisione che ha come dividendo il divisore, la base 3, abbiamo 3 alla 24, diviso 3 alla 23, e quindi 24 meno 23 è pari a 1, e scrivo 3, per, poi abbiamo 2 alla 20 diviso 2 alla 20, 2 alla 20 diviso 2 alla 20 è pari a 2 alla 0, e chiudiamo la quadra, 3 per, 2 alla 0 è pari a 1, e quindi quello che resta è 3, ed infine 3 diviso 3 risulta essere pari a 1. E con questo termino il tutorial su espressioni di numeri naturali semplificabili utilizzando le proprietà delle potenze.